Nuova scossa di 6.0 in Turchia ANSA, Roma, 6 febbraio Un terzo violento terremoto di magnitudo 6,0 ha scosso di nuovo al centro-sud della Turchia, e quanto emerge dal sito dell'Istituto Geofisico Statunitense USGS. L'istituto ha localizzato l'epicentro della nuova scossa a 5 km a nord-oxt di Goksun. Nella provincia di Karaman Maras, ad una profondità di 10 km, ANSA, virgola.